Il rapporto tra i ragazzi ospiti dei nostri centri e le comunità dove sono inseriti è essenziale e fondamentale perché fa capire che queste opere e questi ragazzi non sono ai margini della nostra società ma sono il cuore e il centro. Anzi, da loro possiamo accogliere un messaggio positivo per la crescita culturale e umana delle nostre comunità. Io vedo sempre che dove ci sono opere di carità queste opere sono un'occasione di crescita per tutto il territorio e quindi applaudo ogni iniziativa che aiuta a questo incontro, ogni iniziativa che aiuta a questo scambio di doni tra questi ragazzi, i loro operatori, la loro vita e le comunità dove sono inseriti.